L'attenzione all'infanzia, ai bambini, è uno dei punti di forza dell'azienda consortile agro-solidale. Le fragilità, le debolezze, i bambini che hanno bisogno di essere coccolati e assistiti, sono i primi destinatari della progettualità messa in campo per i comuni di Pagani, San Marsano sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno. Dall'azienda consortile, che grazie alla professionalità dei suoi operatori, diventa sempre più riferimento indispensabile ed importante per le comunità ed i bambini non sono lasciati soli neanche in estate. Noi dobbiamo pensare non ai bambini che hanno la possibilità di poter fare l'estate, ma ai tanti bambini che l'estate diventa per questi bambini un momento di vuoto, perché non c'è più la scuola, la scuola è chiusa, magari i genitori sono impegnati sul lavoro, non hanno la possibilità di potersi distaccare, magari proprio in questo periodo ci sono offerte di lavoro che vengono dall'industria stagionale e così via, abbiamo la necessità di garantire un minimo di continuità. Certo, noi abbiamo pensato più ad un segno che non ammettere in modo un meccanismo che sia in grado di garantire effettivamente una continuità per grandi numeri. Parliamo di piccoli numeri, però il nostro disegno è dall'anno prossimo avremo probabilmente, molto probabilmente, quattro nidi nei quattro comuni dell'ambito. Abbiamo garantito e continueremo a garantire la continuità l'assistenza specialistica per i disabili nelle scuole e l'assistenza per i bambini portatori di bisogni educativi speciali. Garantiremo la mediazione linguistico-culturale per i bambini immigrati e per la necessità di includerli dal punto di vista linguistico in particolare. Abbiamo la necessità di creare sul territorio i presidi per l'extra scuola laddove c'è questa necessità. Ci sono molte scuole, ad esempio, che con scuola viva restano aperte anche di pomeriggio. Per noi è una cosa molto importante perché abbiamo la possibilità di seguire i ragazzi e di seguirli nei contesti scolastici, anche se parliamo di extra scuola, cioè del periodo fuori dall'orario scolastico, ma la scuola resta aperta. Laddove tutto questo non è possibile abbiamo creato, a partire da settembre, i centri polivalenti attivi pomeridiani in tutti e quattro i comuni. Adesso avevamo questa necessità di coprire laddove ci veniva richiesto questo spazio, questo spazio di un mese e mezzo, diciamo due mesi, che è il periodo estivo fino alla riapertura delle scuole. Avremmo avuto intenzione di fare di più, ma il danaro limita di molto le idee e quindi con i residui, con quello che abbiamo risparmiato, con le risorse provenienti dai ribassi d'asta, insomma, abbiamo cercato di avviare delle piccole sperimentazioni, portando bambini che magari a mare non ci vanno e che non vanno nemmeno in piscina, almeno in piscina. E questo è quello che stiamo cercando di fare a San Marsano, a San Valentino, adesso anche a Pagani.